Winnie the Pooh sangue e miele è disponibile su Prime Video. Per chi non lo sapesse, i diritti della Disney su tutti i celebri personaggi del Bosco dei Cento Acri stavano per scadere, tant'è che il regista britannico Rhys Frake Waterfield ha atteso che tutto ciò accadesse per poter realizzare la sua versione horror di Winnie the Pooh senza andare incontro a problemi di copyright. Alla base tutto ciò è geniale. Io non vedevo l'ora di vedere questo slasher che avrebbe sfigurato, che avrebbe proprio dato nuova linfa, nuova essenza alla figura di Winnie the Pooh trasformandolo da tenero orsacchiotto a un mostro metà orso metà umano che assieme a tutti gli altri componenti del Bosco avrebbe ucciso a destra e a manca con ferocia inaudita. È approdato in Italia in un video, tra l'altro il costo del 4k è esorbitante, ma fortunatamente eccolo che il film arriva su Prime. Ho deciso di dargli un'occhiata anche se le recensioni che avevo letto erano decisamente negative. Voglio iniziare questa recensione chiedendo non so nemmeno a chi, come se il regista mi ascoltasse, come se i creatori guardassero questo video. Ma voi avete avuto la possibilità di avere dei personaggi così iconici nel vostro film? Avete atteso che alla Disney scadessero i diritti di copyright? E mi fate una pellicola così brutta, così malfatta? Ma la storia del cinema horror ci ha insegnato che con poco budget possono nascere dei capolavori. To Buper con Non aprite quella porta, Wes Craven con L'ultima casa a sinistra, John Carpenter con Halloween la notte delle streghe. Ora, lungi da me mettere a paragone Winnie the Pooh sangue e miele con questi titoli che vi ho appena citato, ma non mi aspettavo nemmeno di vedere un film sbagliato sotto tutti i punti di vista. La regia è per lo più inesistente, sembra di vedere un qualcosa di amatoriale. L'unica cosa che forse funziona è il design di questi personaggi, perché effettivamente la maschera in stile lattice, che proprio si attacca al volto di questi metà umanoidi, metà animali, funziona. Quindi l'aspetto estetico è promosso, l'unica cosa che si salva di Winnie the Pooh sangue e miele. Per il resto, beh, speravo che il film potesse seguire la scia del primo Terrifier, che con poco budget è riuscito a soddisfarmi. Certo, niente di eclatante, però l'ho preferito al secondo, dove il budget si è quintuplicato e quello che è venuto fuori, insomma, sì, può essere carino, ma con dei problemi. Vediamo col terzo cosa riusciranno a fare. Anche qua, visto il successo ottenuto, han già annunciato un secondo capitolo con il budget più alto e poi lo stesso regista si è definito interessato nel realizzare una versione horror di Bambi, addirittura di Peter Pan e dei Teletubbies. Quindi, alla base, continuo a dire che sono operazioni che funzionano, però spero che oltre alla quantità subentri la qualità. Sarò curioso di vedere il secondo capitolo, perché vi dirò di più. In mezzo a questi mille problemi che troviamo nel film, rivedo più volentieri un filmaccio come questo che i tanti horror costosi che escono nelle sale delle grandi major, tipo l'esorcista del Papa, tipo l'esorcismo di Anna Grace, tipo Jack in the Box. Alla fine sarà che apprezzo lo slasher, ma quando questi orsi umanoidi, questi cinghiali umanoidi uccidevano, provavo anche un minimo interesse. Fortunatamente il film non mi ha annoiato, ma è come se non esistesse il film, perché le morti potrebbero essere interessanti, ma quando si arriva sul più bello l'effetto digitale prende il sopravvento. Se c'è una cosa che ci hanno insegnato i vecchi film anni 70, anni 80, anche quelli di serie B, è che con l'effetto prostetico si riusciva a soddisfare, a sconvolgere, a disturbare. Invece qua si può iniziare dall'effetto artigianale per poi andare a imbattersi nel solito effetto digitale brutto, addirittura per realizzare il sangue. Ci sono delle scene in digitale con gli occhi che scoppiano. Dentro di me ho detto ma per quale motivo? Poi la trama è come se non esistesse, perché se l'inizio può sembrare interessante con l'aspetto animato che prende il sopravvento in cui si racconta che Christopher Robin, cresciuto, è andato a studiare, è diventato dottore, abbandonando Winnie the Pooh, Pimpy e tutti gli altri personaggi del Bosco dei Centoacri, quindi loro, se la sono legata al dito, hanno iniziato a provare odio per il genere umano, specialmente dopo che affamati, si sono mangiati Kiko. Quindi ecco che questa cosa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, non hanno più parlato con nessuno, Christopher Robin torna con la moglie per poter presentare a lei questi vecchi amici con cui è cresciuto, con cui ha passato l'infanzia e una parte dell'adolescenza, ma sono diventati terribili, spietati. Uccidono lei, catturano lui e poi il film si svolge diverso tempo dopo, diversi anni dopo per meglio dire, quando delle giovani ragazze decidono di passare nel Bosco dei Centoacri una vacanza in questo villone, in questa casa, senza che nessuna di loro si aspetti che lì si aggiri un mostro deforme assieme ad un gruppo di umanoidi, animaloidi, con coltelli, con spranghe, con catene, pronti ad uccidere. Quindi tu puoi pensare, va bene, è la storia del classico slasher come ne vediamo tante, però per dirvi, ad un certo punto ci buttano dentro una sottotrama legata allo stalking. Una di queste ragazze è stata perseguitata da un personaggio in stile Bob di Twin Peaks, perché ci sono delle sequenze che quasi vorrebbero scimmiottare quelle di Twin Peaks quando lui si mostra in casa. E questa sottotrama si perde nel nulla, cioè tutto ciò serve per farci capire che dopo questo trauma la ragazza decide di fare una vacanza per dimenticarsi del suo assalitore per poi trovarsi di fronte a Winnie the Pooh. Io pensavo, però tu mi mostri l'assalitore, me lo fai vedere proprio in faccia, sarà importante ai fini della trama, altrimenti bastava raccontare la storia senza farmela vedere. Se tu mi fai vedere proprio in faccia questa persona e poi non me la mostri più, ho detto, vabbè, potenziale sprecato. Aggiungiamoci che sin dall'inizio il film ci mostra, anche durante i titoli di presentazione, che sui giornali non si parla d'altro che di questi omicidi, di queste sparizioni che avvengono nel Bosco dei Centoacri, con delle raccomandazioni scritte a caratteri cubitali, non vi dirigete verso il Bosco dei Centoacri. La psicologa, queste ragazze, dove vanno a fare la vacanza? La psicologa, dove le indirizza? Nel Bosco dei Centoacri. Quindi contraddizioni, come se piovessero, la regia di Reese Freak Waterfield è amatoriale, cioè sembra che per la prima volta tenga in mano una macchina da presa, anche quando si potrebbe puntare sull'horror esplicito funzionano, che ne so, due sequenze su 36. Sì, può essere più definirla iconica, no? Ci si può ricordare maggiormente della scena, spoiler, ma tanto capirete che spoiler, in cui una delle ragazze viene presa è buttata nel tritatutto. Però, cioè, con Terry Fire, l'iconicità già era protagonista. In Winnie the Pooh Sangue e Miele vediamo questi personaggi che si aggirano per i boschi e che dovrebbero spaventare, che dovrebbero portare a termine una carneficina. E purtroppo, nonostante il design degli stessi funzioni, non si prova mai un minimo di ansia, un minimo di timore. Anche le protagoniste, cioè, sono state scelte delle attrici mal dirette perché la recitazione è pessima, così come le reazioni umane non sempre sono convincenti. Forse quello che interpreta Christopher Robin e la ragazza che interpreta Maria sono un tantinello meglio rispetto alle altre, ma ci sono delle dinamiche assurde. Si vede proprio che non si sa scrivere un film. La sceneggiatura è dello stesso regista. Si arriva nella casa, nel bosco, e tutte le ragazze decidono di separarsi. Non si capisce perché. Cioè, queste vanno lì per vivere una vacanza insieme, c'è quella che va nella jacuzzi a farsi delle foto sexy, nonostante poco prima avessero lasciato il cellulare su uno sgabello perché sono giorni dove bisogna dedicarsi alla natura. Quindi anche quella cosa non serve a niente perché poi il cellulare viene ripreso. E poi, quando effettivamente serve anche per chiamare la polizia e dire aiutatemi, il cellulare ovviamente si lascia in disparte. Quindi anche lì non capisci perché queste non chiedano mai aiuto. Quando si imbattono di fronte a questi animali feroci non c'è il minimo fomento, non c'è il minimo pathos. Funziona forse qualche inquadratura quando Winnie the Pooh, così come il suo alleato, quando questi personaggi sono immersi nella nebbia e quindi c'è il vedo non vedo, luce, ombra, luce, oscurità, ma sono piccolezze. Si capisce che del potenziale poteva esserci, ma assolutamente mal sfruttato. Quindi è proprio un filmaccio di serie Z che fortunatamente non annoia. Che capitasse di rivederlo lo rivedrei anche perché mi piacciono gli slasher, perché mi resta in mente la maschera di Winnie the Pooh, mi resta in mente il mascherone di Pimpi, mi sono piaciute le scene in cui questo miele cola dal volto di Winnie the Pooh, ma per il resto lo slasher lascia desiderare anche la scena della ragazza legata con la macchina che le passa sopra la testa, con quest'occhio che esplode anche lì, il digitale che prende il sopravvento, proprio no, ridatemi l'effetto prostetico, ma sono proprio bazzecole. Cioè in questo film funziona l'1%, ogni aspetto è sbagliato, anche fotograficamente a parte pochissime scene tutto è tirato via. Non lo so con il secondo cosa verrà fuori, il finale è fra i più anticlimatici di sempre, non si vuol puntare neanche su un colpo di scena, non si vuol puntare su un effetto sorpresa presentando altri personaggi del Bosco dei Cento Acri. Vediamo semplicemente che Winnie the Pooh colpisce la ragazza mentre Christopher Robin piangendo se ne va e il film finisce così, non c'è un minimo sussulto. Io mi immagino questo film realizzato da un regista un pochino più capace, mi immagino cosa sarebbe potuto venire fuori, cioè la cosa che fa arrabbiare è che Reese Freak Waterfield ha avuto la possibilità di sfruttare certi personaggi per un risultato di questo tipo e non posso salvare il film perché il design funziona. Speriamo che andando avanti riesca a realizzare qualcosa di migliore, di splatter senza il bisogno del digitale che copre la bellezza dell'artigianale, senza il bisogno di scrivere delle sceneggiature talmente stupide che non si possono perdonare, cioè se possiamo andare oltre alle ingenuità, ai cliché che nell'horror ci sono sempre stati, anche nei capolavori della storia del cinema del terrore, qua è proprio poco amalgamato il tutto, la scrittura va per i fatti propri, è un film svogliato, è un film senza un minimo costrutto ed è un dispiacere perché come ho già detto più volte poteva venire fuori un qualcosa di assolutamente dignitoso e cattivo. Hanno detto che per il secondo capitolo il budget aumenterà di gran lunga, questo è stato realizzato con 100 mila dollari, ha guadagnato più di 5 milioni, quindi ovvio che proseguiranno. Io gli voglio anche bene a queste figure perverse, queste figure brutali, però il film ragazzi, poi non è una di quelle pellicole che ti rifiuti di rivedere perché per dire, come vi ho detto prima, rispetto a un countdown, a un jack in the box e chi più ne ha più ne metta mi rivedo Winnie the Pooh sangue e miele. Se proprio voglio essere buono l'inizio con la parte a cartoni animati mi è anche piaciuto, però per il resto no, non ci siamo, poi non sarò forse cattivo come altri che lo hanno detestato, per me c'è di peggio ma sarà che apprezzo lo slasher, però questo non è nemmeno uno di quei film che al netto dei difetti posso dire eh vabbè ma c'ha un'anima, ma c'ha un cuore, non c'è niente, non c'è veramente niente e quindi fatemi sapere la vostra nella sezione commenti così ne possiamo parlare. Peccato, peccato, peccato.